6A com'è? Bello, più solido del DAT. Sì, è una bella via anche questa. Partenzina decisa. Questo Lorenzo va, proviamo, vediamo. Vediamo Lorenzo cosa dice dopo. Poi un altro movimento duro, forse il futuro della via, evitabile, una bella fessura. Sì. Vediamo Lorenzo sul panide. Un po' delicato in partenza. Com'è? Sempre bella?